Hello children! Today we will repeat Unit 5. Buongiorno miei cari alunni! Oggi ripeteremo la quinta unità. Quello che ci serve è il quaderno attivo e l'astuccio. Aprite i vostri quaderni attivi su pagina 74 e cominciamo! Let's start! Cari alunni, adesso ascolterete il CD e collegherete il disegno con il colore che sentite e dopo colorerete i disegni in questo colore. Ascoltate attentamente, listen carefully e collegate and match. Let's start! Let's check! Track 25 My balloon is pink My bus is blue My flower is red My car is green My pencil is yellow My cat is black My snowman is white E adesso ascolteremo ancora una volta. Let's close, it's clear Let's get her Track 25. My balloon is pink. My bus is blue. My flower is red. My car is green. My pencil is yellow. My cat is black. My snowman is white. And now let's check. My balloon is pink. My bus is blue. Flower is red. Car is green. Cancel is yellow. Cat is black. Snowman is white. Well done, children. E adesso colorate i disegni in colore giusto. Mentre lo fate, mettete la pausa. E quando finite, mettete di nuovo play perché controlleremo insieme, va bene? Ok. And now let's check. Controlliamo. Io siccome non potevo colorare tutti questi disegni, vicino a ogni disegno ho messo un smiley, un emoticon di questo colore. Va bene? Cominciamo. Ok. 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 E adesso in questo esercizio dovete disegnare quello che leggete. Prima dovete disegnare red bus, poi black pencil, poi three blue balloons, e two green apples. Ecco, mentre lo fate mettete la pausa così che avete abbastanza tempo per farlo. E quando disegnate bus, pencil, balloons and apples non dimenticate di colorarli nel colore scritto. Mentre lo fate mettete la pausa e quando finite mettete play così controlliamo insieme, va bene? Ok, potete cominciare. Let's start. Ecco, visto che avete finito possiamo controllare. Let's check. Avete disegnato un pullman rosso, a red bus, bravi, poi a black pencil, una matita nera. Tre palloncini blu. E ultimo, two green apples, one, two green apples, due mele verdi. Bravi. Ma in questo esercizio si doveva fare ancora qualcosa. Sapete cosa? Si doveva ripassare ogni parola. Ecco, chi non ha fatto lo può fare adesso. E quando finite questo esercizio potete fare terzo esercizio. Un terzo esercizio dovete cerchiare le parole che vi piacciono e poi dirle ad alta voce. Mentre lo fate mettete la pausa e quando finite mettete di nuovo play così che possiamo continuare con il nostro ultimo esercizio per oggi. Nel nostro ultimo esercizio dite il nome in inglese di quello che vedete, va bene? Ok, let's start. Ok, let's start. and lemons well done children siete stati bravissimi questo sarebbe tutto per oggi spero vi siete divertiti a ripetere la quinta unità vi mando tanti tanti baci e abbracci a tutti and have a nice day bye bye